Salve amici del Centro Medio Italiano, ondata di maltempo che si abbatte sulla nostra penisola. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 3 ottobre. Molte nuvole al mattino con piogge temporali al centro nord e più intensi su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna. Nel pomeriggio maltempo che colpisce soprattutto le regioni centrali con fenomeni anche intensi e persistenti e più asciutto solo sull'estremo sud. In serata e nottata, graduale miglioramento sui settori occidentali, fenomeni in spostamento verso le regioni meridionali, temperature minime e massime in diminuzione al centro nord e rialzo al sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.